Ragazzi buonasera, stasera una sola parola, grandissima Juventus una grandissima Juventus ha espugnato il campo dell'Ipsi in Germania ha vinto 3 a 2, due volte e rimonta, due volte prima perdeva 1 a 0 nel primo tempo ha pareggiato 1 a 1, è andato in svantaggio 2 a 1 e ha rimontato la seconda volta 2 a 2, 3 a 2 doppietta di Vlaovic, distrattato da tutti in questi giorni quindi doppietta di Vlaovic, quindi il merito della vittoria è suo ma comunque rete anche di un grande Conce Sao, un grandissimo giocatore un grandissimo giocatore, ora come io ho detto nel video precedente motta porca di quella troia puttana, devi mettere i giocatori perché lei pensa che quest'anno i giocatori ce l'ha i giocatori ce l'ha, i giocatori ce l'ha e devono giocare Douglas Luiz, Conce Sao, abbiamo tantissimi campioni tantissimi campioni e quando rendono in gambo fanno la differenza e stasera non era facile battere l'Ips, perché l'Ips in questi anni è una squadra molto buona, una squadra ostica, una squadra che è arrivata in Germania sempre al secondo, al terzo posto, in grassifica quindi io l'ho vista, l'ho seguita la Champions in questi anni ha fatto bene anche in questa competizione, non solo nella Bundesliga quindi battere l'Ips è stata un'impresa oggi stratosferica mi ha fatto capire che la Juventus e la squadra quest'anno ce l'ha la squadra ce l'ha, quindi possiamo andare secondo me molto, ma molto avanti io non vi sto dicendo che vinceremo la Champions, ma sono molto contento perché questa impresa stasera contro la Juve e che ha fatto contro l'Ips in Germania è stata una grande impresa, basti pensare che Bremer si è infortunato e quindi gli dobbiamo buttare il sale, gli dobbiamo buttare il sale perché si infortunano tutti questi giocatori siamo yellati, troppi gufe addosso abbiamo quindi si è infortunato Bremer, si sono infortunati Gonzales siamo stati in svantaggio due volte due volte e alla fine la Juventus come una grande squadra con una mentalità vincente è riuscita a rimontare nonostante i due infortunati, nonostante eravamo fuori casa nonostante lo svantaggio per due volte, prima una 0 e poi due 1 è riuscita a rimontare per ben due volte dimostrando di essere una squadra con le palle e stasera dico grande Juve, grandissimo Juve e a Motta dico fai giocare i nostri campioni Conce Sao deve essere titolare, deve essere titolare e Douglas Lewis deve essere titolare pure poi gli altri, gli fai fare anche il turno va agli altri giocatori comunque sono felicissimo una Juventus che è nelle prime 8 di Champions una Juventus stasera che ha dimostrato di essere una grande squadra spugnando il campo dell'Ipsia e niente, sono molto contento stasera grande Juve, grande Juve, grande prova di carattere prendetene nel culo, tedeschi di merda grazie a tutti